L'onorevole Anna Macina del Movimento 5 Stelle, la senatrice Valeria Fedeli del Partito Democratico e collegato con noi da Milano, Massimo De Manzoni, condirettore della Verità. Ben trovati, ben trovati, alzatemi la musica che voglio sentire tempo, tempo, tempo. E' tutta questione di tempo, Fedeli. Certo, però ho visto prima, non classificato, promossi, bocciati. Però io l'ho detto che abbiamo una speranza, non vediamo. Ai padri del Partito Democratico, ai nonni, non so, non ho capito bene che cosa rievocavi. Diciamo che uno spera che ci sia qualcuno. Noi stiamo facendo un congresso importante, un po' in ritardo. No, no, ma infatti dopo 364 giorni dalla sconfitta ci arrivate, insomma con un attimo di calma ci arrivate. Arriviamo i nostri tempi, avete vostri tempi su questo non c'è dubbio. Ecco, appunto, vedi, è sempre questione di tempo. E Alessio che succede? Devono averci sentito anche dalla Sardegna, perché c'è un allievo di quelli che ha preso non classificato, che sta cercando di far capire che invece è presente. Vuole essere interrogato, si può interrogare volontario, mi candido per andare in Europa, dove manca il pensiero profondo. Meno male, meno male, De Manzoni, no? Abbiamo tutte le fortune. Abbiamo anche questo, certo. Onora al coraggio, ecco, diciamo così. Ecco, mettiamola così, onora al coraggio. Senta, De Manzoni, le voglio chiedere. Allora, lo stesso Premier Conte, non è una battuta di spirito, ma lui stesso ieri, nel fare quel post su Facebook in cui annunciava il Consiglio dei Ministri oggi, perché pure oggi sembrava slittasse, no? Poi lui ha annunciato che ci sarebbe stato, poi si era detto che sarebbe stato alle 4 e invece sarà alle 6, però insomma alla fine arriverà, arriverà il decretone. Però lui stesso dice, finalmente ci saranno i decreti. registriamo una certa soddisfazione. Ebbè, cos'era? Una settimana fa erano lì per farli. Eh sì, ma lei me lo dice in un titolo, e poi tanto devo andare in pubblicità, ma ci torniamo, il perché di questo slittamento continuo? È un problema di numero o è un problema politico, di competizione politica? Tutte e due le cose, ma alla base c'è il numero, perché se fossero più disponibilità economiche le competizioni sarebbero molto molto più semplici. Sarebbe più facile, diciamo. Andiamo in pubblicità, ci troviamo tra pochissimo tempo. Eccoci qua, eccoci qua, di nuovo in studio, sono con noi il direttore della verità, con il direttore De Manzoni che è collegato da Milano, la senatrice Fedeli, l'onorevole Macina. Alessio, la rete come ci aiuta? Ci aiuta facendo ironia sul tempo del decreto, dei decreti anzi, provvedimenti collegati per reddito di cittadinanza e quota 100, il tempo di Osho, il decreto arriva con una R sola. Stasera lo vado a prendere io personalmente, è la minaccia di Salvini. E poi sai che su internet è in atto una sfida come ero dieci anni fa, come sono adesso, 2009-2019? Mi ricordava anche Riotta, noi abbiamo partecipato, no Alessio? No, no. E nelle nostre corde, direi. All'urlo di, ma anche no, anche perché dieci anni fa noi non c'eravamo, abbiamo dieci anni. 2009-2019 vince questa gara una nostra amica e telespettatrice, Elisabetta II, nel 2009 avanti Cristo era così, nel 2019 e dopo Cristo è così, uguale. Uguale, 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 e per noi sarebbe lo stesso, diciamo, quindi non facciamo questa cosa per questa semplice ragione. Dunque tempo, dicevo, ci dovrebbe essere una sveglia che mi raggiunge, perché la sensazione è che tutti chiedano tempo, adesso poi noi parleremo anche di Brexit, di quello che sta succedendo nel Regno Unito, la May che chiede tempo, cerca di capire, adesso lunedì parlerà, poi chiederà probabilmente tempo all'Europa, è un momento in cui ci sembra che tutti chiedano tempo, noi ci siamo attrezzati con cosa, Alessio? Con i proverbi. Con i proverbi, il primo che ci vuoi dire? Chi ha tempo non aspetti tempo. Il secondo che ci vuoi dire? Che è un po' collegato al primo, il tempo è galantuomo. Ah, è vero, è galantuomo, lo deve aver pensato Letta, Fedeli. Ma, guarda, questo era certo che tu mi provocassi in questo modo, lo sapevo, io lo sapevo, quello che ti ho detto di sì, noi, lo spieghiamo a chi ci segue da casa, ho detto di sì ieri, lo spieghiamo a chi ci segue da casa, allora, ho letto Repubblica, ho letto l'anticipazione del libro, vedi che ti anticipo, ho letto l'anticipazione del libro di Enrico Letta, che adesso vuoi proseguire tu, il quale, stando assai sereno in verità, ha scritto in questo libro il titolo è fondamentale. Com'è il titolo? Io ho. Io ho imparato. Ecco, lui sì, anche lì, io ho imparato. Non abbiamo ancora letto il libro, abbiamo solo letto l'anticipazione. E verrebbe da dire, no, che lui forse pensa che altri non hanno imparato, ma la cosa che mi colpiva è che lui dice, sostanzialmente, Renzi come Salvini, come Grillo, Renzi e Berlusconi hanno aperto la strada ai populisti e fa l'elenco delle ragioni per cui, ne dico un paio, la loro ascesa corrisponde all'anno zero, l'appello diretto al popolo, la sovrapposizione tra i leader del paese e i leader del partito e in più Renzi ha ancora una colpa in più che è quella della distruzione dell'avversario, rispetto a Berlusconi, che è quella della distruzione dell'avversario. Buono, no? No, con affetto. Dobbiamo discuterlo proprio. No, no, volevo sapere solo che ne pensa. Mi dica solo un titolo. Io penso solo una cosa adesso, secondo me, la scelta che lui ha fatto di mettere insieme questi significa che lui comunque a tutti questi riconosce il leadership e il tempo moderno senza contenuti incrociati con le leadership, diciamo, non muovono sentimenti, passioni e adesioni. Lo dico perché questo secondo me è un tema che ha le sue contraddizioni. Secondo elemento, invece, che dal mio punto di vista è interessante da guardare e analizzare non per mettere insieme, secondo me, se non ho capito male, lui non la fa questa scelta, però il libro va letto, non mette insieme le stesse politiche. No, no, lui dice che hanno aperto la strada ai populismi per le caratteristiche che io elencavo. Però questo è importante. Cosa c'è, invece, che secondo me è un punto su cui io rifletto e agisco da tempo, che lui dice che c'è in questa intervista, che bisogna fare grande attenzione quando, semplificando e usando un linguaggio in cui non si riconosce mai all'avversario la dignità di essere avversario, ma diventa il nemico, devo dire che da questo punto di vista io lo condivido perché è tema per il quale mi sono, diciamo così, spesa negli anni precedenti. Io direi che ho torturato abbastanza la fede. La seconda cosa è proprio il fatto che invita a ragionare. Il titolo. La seconda è quella sulla quale ci invita a ragionare, cioè quando non si riconosce la dignità dell'avversario e questo oggettivamente è un difettuccio di Renzi, si può dire. Però posso dire, è differente rispetto a quello di... Non ce la fa. No, ma non ce la fa, per una ragione... No, ma no, posso dire, mi conoscete? Sì. Quella di Grillo inizia con le parolacce. Eh va bene. Eh no, eh no, eh no, eh no. Però lui mette insieme, però lui mette insieme. Il vaffa, la rottamazione, la ruspa. E la questione di Salvini è violenza, che è una cosa ancora diversa, che non ha fatto Renzi, posso dire Renzi diceva guffo ma la parola guffo si potevano arrabbiare gli animali è sempre una denigrazione degli avversari su via, è sempre un non riconoscere il problema del dialogo però c'è modo e modo molto bene, chi ha tempo non raspettirà perché se no non esco più tanto tanto De Manzoni non ce la può fare la senatrice Fedeli la senatrice Fedeli deve ancora imparare allora Letta ha imparato la senatrice Fedeli Tempo, ci vuole tempo tempo e serenità qual era il primo di proverbio? tempo non aspetti tempo si devono essere detti quelli del governo e quindi finalmente hanno partorito abemus il taglio di Maria Grazia Ogerina quando si prende tempo fatemi vedere il grande giorno sembra arrivato ad annunciarlo nell'intervista alla stampa è lo stesso presidente del consiglio che dopo il vertice mattutino con Di Maio e Salvini si prepara stasera a tagliare il nastro via libera stavolta forse sul serio al reddito di cittadinanza e alla pensione con quota 100 c'era una legge che mi stava sullo stomaco sul fegato più di tantissime altre io ho detto se mi mandate al governo la prima legge che vada a smontare mattone per mattone mattone per mattone smontare la legge Fornero sull'età della pensione a dire il vero è un'impresa ancora di là da venire ma il sentimento del tempo del governo gialloverde si gioca tutto tra un annuncio e un rinvio è stato così nei giorni della manovra è così adesso che si comincia a entrare nel dettaglio obiettivo spingere i rispettivi elettorati a guardare verso il futuro piuttosto che fare le pulce al presente questo non significa dire ai cittadini perché lo facevano quelli di prima ha ragione dovete essere felici adesso perché abbiamo fatto quota 100 il reddito io ho un elenco ancora di tante cose da fare tra le quali reddito e quota 100 perché ancora dobbiamo vedere il reddito e quota 100 sono nella legge di bilancio è tutto un'arte di prendere tempo sulle promesse fatte in campagna elettorale come sull'alta velocità prima si aspettava la relazione sulla fattibilità ora che la relazione c'è si attende la bollinatura dell'ufficio legale anche le misure oggi finalmente al baglio del consiglio dei ministri fino all'ultimo è sembrato che dovessero slettare un giorno erano cosa fatta il giorno dopo ancora da ridefinire ricontrattare i numeri delle rispettive platei i paletti necessari per far tornare i conti quest'anno nel 2019 con la legge Fornero dovevano andare in pensione circa 200.000 persone con quota 100 possono andare in pensione fino a 630.000 persone ma è un miglioramento oppure è una colpa poi arriveremo anche a quota 40 forse si era promesso troppo ma non si può dire ora che all'orizzonte ci sono le elezioni europee allora onorevole Macinac vorrei cominciare dalla fine diciamo della riflessione di Madre Grazia Gerina forse si era promesso troppo direi che c'è un proverbio che ci aiuta che è tra il dire e il fare no? diciamo forse tutti questi slittamenti e le difficoltà che il governo oggettivamente deve affrontare ci dicono che tu quando sei in campagna elettorale ovviamente hai un'idea hai un pensiero hai un'idea di paese nella testa poi quando lo devi realizzare insomma è un pochino più complicato no? io come dire mi stupisco perché fino a che abbiamo detto siamo pronti siamo pronti ma ci avete messo troppo poco tempo volete riformare i centri per l'impiego e volete farlo in un mese adesso che invece arriva ma ci avete messo troppo tempo ci state mettendo troppo tempo insomma non c'è mai io mi accontenterei perché evidentemente è passato il concetto che queste misure che non erano promesse ma erano degli impegni che erano stati presi in campagna elettorale e anche in questo c'è un modo di fare campagna elettorale che permettetemi si differenzia dal passato perché le promesse elettorali vengono puntualmente disattese e infatti si diceva una promessa elettorale che si manteniamo le nostre erano impegni che stiamo mantenendo e se si slitta si è grittato da ieri a oggi o di mezzo pomeriggio o di un paio dalla settimana scorsa questa settimana quindi uno semplicemente si chiede questo credo sia legittimo però l'importante è che finalmente arrivino queste misure che evidentemente ormai è entrata nella concezione di tutti che sono misure che veramente porteranno anche perché occupano la metà del bilancio dello Stato quindi uno è interessato a capire come vengono spesi i soldi di tutti noi occupano una buona parte ma io voglio ricordare che il reddito costa meno di quello che è costato di sinnescare la clausola di Saraguardia sull'IVA no 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 ma per carità però è un dato di fatto l'IVA e l'aumento del euro c'è costato 12 miliardi il reddito ne costa se ho sentito una notifica le indiscrezioni su questo provvedimento di cui a poco conosceremo dettagli e natura completa arrivano ovviamente via social questa volta la ministra della semplificazione amministrativa Giulia Buongiorno a rendere noto un dettaglio che ci aveva già parzialmente anticipato Antonello De Fortuna in collegamento con il provvedimento 400 TFR TFS cioè il trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici immediato per tutti i dipendenti pubblici quotisti e non stop al riferimento perché c'era quella questione degli otto anni addirittura che avrebbero dovuto attendere i dipendenti pubblici si tratta di capire chi paga alle banche gli interessi perché questo è il tema loro cioè il dipendente prende i soldi subito lo Stato chiede alla banca di anticiparli chi paga quegli interessi e quanti sono quegli interessi perché certo se li paga lo Stato li stiamo pagando noi non fa una piega però diciamo per questo occorre vedere il dettaglio delle norme occorre vedere il dettaglio certo De Manzoni ha visto oggi Repubblica ad un certo punto pubblica una cosa che ci ha colpito cioè non solo la questione eletta vede senatrice come sono buona sono bipartisan un po' qui un po' lì eccolo qua la Repubblica caro deputato ecco cosa puoi dire il kit 5 stelle per indottrinare i parlamentari pare che qualcuno si sia dimenticato su un divano di Montecitorio un plico di 6 pagine noi che siamo curiosi parecchio abbiamo recuperato il plico cioè siamo andati a cercarci il plico intanto chiedo all'onorevole Maci lei l'ha avuto regolarmente 12-18 era ma guardi relativo al 12-18 gennaio io credo che evidentemente si riferiscono ad altro che sono sostanzialmente le schede esplicative dei provvedimenti un'analisi dei provvedimenti che arrivano puntualmente in commissione o alla Camera le hanno chiamati specificatamente spunti comunicativi o quantomeno probabilmente sono dei piccoli riassunti di quella che è la rassegna quotidiana no 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 questo che lo assicuro lei non mi ha avuti lei questi spunti numeri non le ha avuti ne questa settimana nell'altra sicuro che non siamo dei robot non siamo dei ripetitori no no quello che voglio dire io è che secondo me la trascurano perché se a lei non gli hanno dato c'è qualcosa che non va e De Manzoni ecco nel diciamo loro l'hanno chiamato il prontuario io me lo sono guardato un po' diciamo ci sono delle indicazioni su dei temi caldi no penso alla TAV penso alla reddita sulla TAV si dice ricordare che costa 20 miliardi ricordare che non serve per le persone ma solo per le merci insomma alcune indicazioni di massima no su Salvini si dice ribadire che Salvini prima era per le trivelle a proposito delle trivelle quindi diciamo sono dei suggerimenti mettiamola così l'ha colpita? no non particolarmente anche perché purtroppo avendo una certa età mi ricordo cose analoghe negli anni passati per altri movimenti politici Forza Italia distribuiva non solo il kit ma faceva anche questo tipo di cose e non mi sembra particolarmente disdicevole voglio dire dare uno strumento una linea ma sì ma anche degli strumenti perché io dubito che i deputati si studino o possono studiarsi tutto soprattutto se sono impegnati per esempio in determinate commissioni magari si perdono qualche altra cosa e quando arrivano in televisione poi rischiano di fare la figura degli stupidi penso che sia questo il principio però io non l'ho visto il kit tu l'hai visto se ci dà qualche particolare questo su cosa dire di Salvini che non ha niente a che vedere col merito di Trivelle sì o Trivelle no ma è un'indicazione di altro tipo per esempio quella è un'altra cosa però mi sembra che tu si dicesse ricordiamoci che nel 1952 Salvini appena nato diceva questa cosa qui di Trivelle si metteva le magliette ricordate che si metteva le magliette non Trivelle chiedete agli abruzzesi se adesso sono o non sono d'accordo ai leghisti abruzzesi adesso non sono d'accordo con Salvini quindi diciamo quella è un'indicazione precisa di tipo politico secondo me non ha niente a che fare con il fatto di studiarsi i dossier però io sono maliziosa si sa senatrice Fidelis non voglio approfittarne però è chiaro che non è un approfondimento perché gli approfondimenti sui dossier vengono forniti dagli uffici di Camera e Senato delle competenti commissioni parlamentari quindi ciascuna senatrice senatore lei lo sa ciascuna deputata e ciascun deputato a tutti gli strumenti partecipando alla propria commissione tra l'altro fatti molto bene perché le professionalità e le competenze dei consiglieri dei funzionari di Camera e Senato dove c'è la rassegna stampa e c'è anche il tema proprio lo sviluppo dei dossier tutto lo sviluppo dei dossier tutti i riferimenti e così via quindi non sono dossier di studio di approfondimento che abbiamo in altro modo sono spunti comunicativi no posso dire una cosa per serietà io non l'ho visto quindi mi permetto di commentare lo dico a Anna solo perché qui è stato posto non l'ho visto però per le poche cose che qui sono state dette che c'erano su Repubblica è chiaro che è uno strumento dell'attuale battaglia politica che c'è tra il Movimento 5 Stelle e e la Lega non solo la vera domanda è ma chi non rispetta quelle cose che lì sono scritte vengono espusse o no perché la cosa vera è lì notizia sentiamo la notizia che poi lo andiamo avanti sia io che i miei colleghi vi assicuro siamo menti pensanti questo non è dolce ma questo non è dolce nel senso che ogni volta ti cerca sempre perché io mi rispetto voi dovreste rispettare noi e non ci dovete dire che non siamo singolarmente autonomi no per esempio quando parliamo e spingiamo opposizioni io faccio soltanto questo discorso perché poi l'atteggiamento all'inizio era anche forse simpatico però poi alla lunga stanca all'interno della Camera dei Deputati ma lei potrà tranquillamente riferire dei miei colleghi senatori ci sono talmente tante alte professionalità e competenze all'interno delle proprie commissioni di appartenenza che francamente non è lo spunto comunicativo perché se lo spunto comunicativo è un modo per riassumere in due semplici parole l'argomento del giorno non parlano mai non credo che il discorso è che si usa non ho letto l'articolo di Repubblica e francamente questa è una fortuna però cercare di ridicolizzare la figura di noi deputati del Movimento perché abbiamo bisogno che qualcuno ci dia io non mi sento rimane in casa posso ricordare una cosa il tema è che uno pone un tema e c'è un tema politico in quella cosa prego prego De Manzoni no finisco su una cosa perché lei ha detto un tweet un tweet un tweet di De Manzoni che arriva dalla Fedeli vi prego intanto rispetto intanto io rispetto ogni parlamentare penso che ciascuno abbia una sua dignità che va rispettata vale per tutti vale per tutti vale anche per i componenti del partito democratico vale per tutti detto questo è evidente che su una notizia così che ha dentro delle questioni come lei interrogava me su quello che ha detto Enrico Letta mi pare normale tutto mi pare di interrogarsi sugli spunti comunicativi che non sono spunti comunicativi dal momento che c'è scritto cosa dire di Salvini su via perché se no ci giriamo intorno De Manzoni che fa voglio andare avanti un tweet sui tweet cioè che ripeto la meraviglia non esiste perché quando c'era Renzi primo ministro partivano raffiche di tweet ogni volta che i deputati dovevano dire qualcosa in televisione e avevamo tutti i deputati renziani che arrivavano in televisione e dicevano esattamente la stessa frase con le stesse cose ma quella era pubblica qui stiamo parlando di un dossier dimenticato dimenticato sulla poltrona non è pubblica era un tweet pubblico non è 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 un tweet pubblico di messaggi che venivano mandati ai singoli deputati alla fine di concordare cosa si doveva dire farlo su carta o farlo su MSS è la stessa cosa vero? è un proverbio è un proverbio è un proverbio chi dorme non piglia pesci ora chi è che si dice che dorme? chi aspetta chi aspetta cosa? in particolare qualche provvedimento del governo il reddito di cittadinanza e noi siamo andati a Torino da una parte e a Bari dall'altra fatemi vedere oggi ho orecchiette in lappe orecchiette in lappe oggi a quanto vanno le aranze? le aranze vanno a un euro un euro al chilo? sì le darei un'arancia a Tarocco che è arrivata dalla Sicilia ieri buonissima a due euro e venti al chilo per le arance una differenza del 60% tra Torino e Bari è solo un esempio di come il reddito di cittadinanza potrà avere un valore diverso al sud e al nord Italia ma andiamo avanti con la spesa mezzo chilo di pane e due etti di prosciutto cotto signorina le possiamo dare dell'ottimo pane dell'ottimo altamura questo le viene 94 centesimi vorrei per favore due etti di prosciutto cotto gliene do uno io che è proprio speciale 3 euro tutto 3 euro e 76 per mezzo chilo di pane e due etti di prosciutto a Bari sono 3 euro a Torino quasi 5 per favore sto cercando un bilocale in affitto però in periferia perché non ho tanti soldi quanto dovrei spendere? ma guardi per esempio potrei offrirle questo bilocale uno stabile con ascensore un bilocale di circa 65 metri quadrati la richiesta è 550 euro al mensile attualmente disponiamo di un bivani in zona carbonara costo 4,50 un primo piano discreto stato quanto ci costa taglio e piega qui a Bari di solito il prezzo varia da un artista all'altro noi prendiamo 24 euro il taglio 37 la piega 17 sale 54 per favore cornetto e cappuccino cuccio con cacao senza cacao con cacao grazie quant'è? 2,60 2,30 euro il conto è presto fatto al nord abbiamo speso il 27% in più che al sud e va bene questo ci racconta delle due italie però questo posso dire obiettivamente adesso non è utile però è un dato che c'è sempre stato c'è le differenze da questo punto di vista vale sempre lo dico perché valeva per i rinnovi dei contratti per questo che lo dico e ovviamente varrà per il reddito di cittadinanza però il tema non è questo per il reddito di cittadinanza il tema del reddito di cittadinanza che adesso speriamo tutti di vedere entro stasera infatti non farò domande sul numero la platena di cose perché francamente lo vediamo tra poco però c'è un punto che mi interessa però posso dire che continuo ad esserci perché tutti ci aspettiamo non perché siamo eccitati nel vederlo ma siamo preoccupati nel vederlo perché a questo punto dobbiamo capire davvero se è un reddito di cittadinanza se è un ingresso al lavoro e a quali condizioni e perché se poi invece serve per pagare meno l'affitto da alcune condizioni guardate che a tre lo dicevo prima madonna ha tre obiettivi non va bene perché si era partiti dicendo povertà che è un tema che c'è che va affrontato in quanto tale altra cosa è l'inserimento al lavoro ma guardate che l'inserimento al lavoro oggi significa anche formazione di qualità differente dal passato significa anche che ci debba essere l'offerta quindi non lo puoi agganciare a condizioni di povertà allora proviamoci credito di cittadinanza perché noi abbiamo misurato il nord e il sud perché come sappiamo sono 780 euro in realtà vari studi Alessio ci dicono che la media di quello che arriverà il beneficio medio secondo lo Svimez che ha fatto uno studio basandoti dai 6,1 miliardi che sono stanziati per le 1,7 milioni di famiglie aventi diritto calcola un beneficio medio sempre che poi noi troveremo questi numeri e queste cifre nella radice di cittadinanza però diciamo in base a quello che si sapeva a quanto dichiarato anche da Di Maio ultimamente a segno reale beneficio medio 391 euro con i quali in alcuni posti d'Italia fai delle cose in altri posti fai altre cose allora se il tema è combattere la povertà forse è la questione dei manzoni della media del pollo di Trilussa ci sono due polli io ne mangio due tu ne mangi zero in due ne abbiamo mangiato uno a testa però io sono rimasta sempre digiuna cioè quello è il tema no? assolutamente sì è uno dei tanti problemi che pone questo provvedimento uno dei tanti perché avevano fatto il conto che in realtà il 46% della soglia di famiglie sotto la soglia di povertà risiedeva al centro nord e quindi questi sarebbero svantaggiati diciamo così però ragione da quel punto di vista della senatrice Fedeli questo è un tema da sempre infatti periodicamente si proponevano le gabbie salariali proprio per questo per questo motivo poi dopo non è mai non è mai stato fatto ma è un problema è un problema il governo del cambiamento e soprattutto che aboliamo la povertà lei capisce che questa roba qua diventa più importante e più significativa aboliamo la povertà è stata una battuta di un'infelicità è un poentoso battuta infelice no molto questo provvedimento si pone sicuramente due obiettivi fondamentali che è sicuramente quello di contrastare la povertà perché 5 milioni di poveri francamente non potevano essere più ignorati da nessuno e questo governo non aveva nessuna voglia di ignorarli ma sicuramente c'è la voglia di riaccompagnarli attraverso un percorso di formazione per il quale verranno attivati anche i centri di formazione e di riqualificare le persone facendo in modo che si possano finalmente incontrare la domanda dell'offerta di lavoro cioè la domanda che ci ponevamo è se effettivamente il primo obiettivo è quello di eliminare una condizione di indigenza di alcune persone in questo paese vive una condizione di povertà e forse ti devi far carico del fatto che esistono più Italie perché altrimenti rischi da una parte sì di risolvere il problema dall'altra parte assolutamente no allora in una parte d'Italia sì in una parte d'Italia no ma proprio quello però si risolve facendo delle politiche che agevolino e che non e che colmino il gap cioè la differenza che può esserci fra nord e sud ed è su quello che per esempio anche nella manovra si è intervenuti cerchi di lavorare a far alzare un pezzo del paese e vedo collegato Antonio Caprarica giornalista scrittore ben trovato Caprarica senta arrivo arrivo subito da lei perché ho piacere di capire insomma da un fine conoscitore come lei di quella realtà il Regno Unito ho piacere di capire cosa sta succedendo soprattutto come si sta vivendo in questo momento lì quello che sta accadendo alla May però prima le propongo di vedere insieme a noi una cosa apriamo il Corriere della Sera Alessio è ancora una notizia altissima su Corriere.it l'eroina fumata in metro a Milano una coppia di tossici alle 8 di sera quindi in pieno orario trafficato c'è già una clip riusciamo a vederla intanto che tu parli almeno la si produce in queste scene poco edificanti vediamo un po' 8 di sera metro lui fuma lui fuma lui fuma tranquillamente in metro fuma eroina da dove arrivava lui dal boschetto di Rogoredo giusto? che è una zona che noi abbiamo seguito e visitato e documentato più volte tra dispaccio del nord del nord Italia noi ci siamo stati ve lo faccio vedere che tristezza qua ho fatto un'ulcera infezione da sapiro cocco qua invece ho fatto trombosi monosa profonda e da quanta che vieni qua? 10 anni Milano sabato notte diluvia e gli avadi tossici al boschetto dell'eroina non accenna a fermarsi dormo qua nel bosco? mh devo prendere la cosa dai ruolo allora dormo qua così spendo il sveglio per me sono vicino a prendere un punto qualche una dose? mh quanto costa un punto qua? 2 città di terra ho visto una ragazza di 14 anni con 30 euro volevo comprare i clienti sono spesso giovanissimi e molte ragazze pur di ottenere la dose sono disposte a prostituirsi in cambio di una dose fanno sesso sì e dov'è che lo fanno che si prostituiscono? in strada in strada e poi vanno a compiarsi la roba? sì giovani? sì però non è colpa gli spacciatori gli spacciatori loro stanno vendendo la roba noi andiamo da loro allora De Manzone le chiedo subito chi deve metterci mano questa è una storia che noi raccontiamo solo noi l'abbiamo raccontata più volte in questo studio no? poi vengono allontanati da lì poi ritornano e poi adesso vanno in metro e fumano l'eroina nel metro come a Milano chi deve metterci mano? eh dobbiamo metterci mano tutti a partire dalle famiglie dovremmo metterci mano è un tragico ritorno quello dell'eroina anche se la droga in Italia c'è sempre stata ma l'eroina sembrava passata adesso è tornata soprattutto tramite lo spaccio gestito dalla mafia nigeriana per cui un altro coda del problema è questo cioè su un'immigrazione incontrollata che ha generato una situazione di monopolio quasi dello spaccio da parte della mafia nigeriana è un'altra situazione è oggettivamente di ordine pubblico a Rogoredo se non vado errato hanno tirato su un muro come dire vabbè quelli che sono dall'altra parte chi se ne frega più o meno no lì c'era la questione della stazione della prossimità della stazione avevano alzato un muro però appunto le hanno spostati da lì poi sono tornati le hanno spostati certo non è quella evidentemente che risolve Fedeli le chiedo solo brevità perché voglio Stacca Pranica può parlare con il direttore ce ne dobbiamo occupare tutti le famiglie la scuola la società la politica va bene nessuno si può tirar fuori in che modo la prima cosa devo dire che mi ha molto colpito essendo la mia città in cui sono cresciuta da adolescente Milano l'indifferenza sul metro guardate questa è una cosa pesante cioè che ti dice che si è creato un contesto sociale nel quale tu non vuoi occuparti di chi hai vicino che magari sta male che sta facendo una cosa che fa male a lui che la sta facendo questo è un'indifferenza che mi ha colpito devo dire mi ferisce molto mi ferisce anche quando la vido è paura esatto stavo arrivando lì si ha paura ma perché si ha paura perché si è creata in questa società l'idea che ogni cosa che è diversa da quella che faccio io anziché essere un elemento con cui cerco di avvicinarlo di superare di affrontarlo si ha paura perché c'è sempre qualcosa che fa scatenare la violenza posso dire c'è un tema di ordine pubblico non c'è dubbio io voglio la sicurezza per tutti per tutti e per tutte nella strada voglio l'illuminazione voglio che ci sia ovviamente diciamo meno divise addosso e più divise per strada mi pare che dica la fedeli questa è bella questa mi è piaciuta brava sono totalmente d'accordo ho sintetizzato vedi Alessio un proverbio per Caprarica che non sa ma noi stiamo procedendo per proverbi ah giusto time and tide for no man wait vale a dire il tempo e tempesta non aspettano l'uomo oh Caprarica diciamo il tempo di decisioni per dirle in un altro modo vale a dire che sono belle gatte da velare per la May esatto si è proprio il proverbio giusto per la May eh no certo era dedicato a lei e come che aria si respira a Londra lei è tornato da pochissimo ma l'aria che si respira a Londra in realtà è più ottimistica di quanto sembrerebbe suggerire la dominante incertezza del momento perché naturalmente l'approdo immediato è difficile da individuare però quello che è successo quello che è successo due giorni addietro nel Parlamento invece è di una importanza capitale perché è stato smascherato il blef della signora May il blef della May era o accettate questa minestra la mia o vi buttate dalla finestra cioè nessun accordo la tragedia esatto o questo accordo che non andava bene a nessuno almeno non andava bene nessuno in Inghilterra per l'Europa era abbastanza buono naturalmente ma in Inghilterra non poteva accontentare né quelli che vogliono la Brexit né quelli che non la vogliono quindi era chiaramente un fallimento ed ha registrato la più clamorosa sconfitta di governo in cent'anni di storia parlamentare un marzo Caprarica ma quelli che volevano la Brexit oggi con quello che sta accadendo a suo giudizio diciamo parlando con le persone per strada sono ancora convinti la sensazione che ha lei allora la sensazione è che ci sia naturalmente una come dire un arrovellarsi un chiedersi naturalmente dopo due anni di questa pantomima risulta chiaro intanto che divorziare non è facile non è che uno divorzia se ne va e chiude la porta di casa e buonanotte e quindi cominciano a valutare il dare e l'avere di questa operazione inoltre in qualcuno comincia ad affacciarsi l'idea che anche qui come nel divorzio non è che uno dice cambio moglie e risolvo tutti i problemi anche cambio marito però molto inglesi cambio moglie cambio marito certo no vabbè io lo dico dal punto di vista maschile naturalmente insomma quello che voglio dire è che molti inglesi cominciano a realizzare che i problemi del loro paese che sono stati problemi generati dalla grande crisi finanziaria che sono i problemi di tutto l'occidente dopo la grande recessione non si risolvono semplicemente dicendo che è colpa di Bruxelles e quindi questo sta generando certamente un'ampia riflessione questa è una riflessione importante che credo sia riflessione anche di chi guarda al Regno Unito quindi importante per tutti noi facciamo una cosa Caprarica le voglio mostrare una cosa che ci ha molto colpito perché in questi giorni siamo stati lì a guardare il Parlamento britannico conoscendo anche delle ritualità che non conoscevamo fatemi vedere le a's to the right 306 the no's to the left 325 the no's to the left 306 the no's to the left 325 so the no's have it the no's have it unlocked point of order the prime minister eccoci qua allora Caprarica intanto mi colpiva quella cosa che facevano così un po' giapponesi però appunto io non l'avevo mai mai visto quindi magari evidentemente è così che funziona poi anche tutto l'assemblemento che ci racconta diciamo del Regno Unito quella seduta ma ci racconta di una della grande attenzione dell'attaccamento alla tradizione perché quello è il Parlamento è il primo Parlamento un grande stanzone di Westminster alla destra e alla sinistra da una parte i tourist dall'altra parte i waste da una parte i sostenitori dell'autorità a regio dall'altra i sostenitori del primato del Parlamento quello schema è rimasto io trovo meraviglioso il fatto che manchino ben 200 posti a sedere per cui ci sono 200 deputati che stanno però come vedete la cosa funziona perfettamente con una molta rapidità perché tenete conto che il voto di fiducia ha richiesto esattamente minuti 17 quindi senza tante storie uguale a quello che succede in Italia proprio preciso sì preciso attualmente bisogna dire che John Berco che è l'attuale speaker della Camera perché avete visto naturalmente The House of Commons la Camera la Camera bassa John Berco è un personaggio anche di suo quindi ci mette se volete un sovrappiù di teatralità seicentesca nello svolgere il corpo ecco ma non dimenticate che anche il Parlamento che una volta all'anno quando c'è il discorso della regina viene convocato i membri della Camera bassa vengono convocati nella Camera Alta dove la regina può entrare in quella bassa non può andare vengono convocati nella Camera Alta dal gentiluomo del bastone cioè un signore che picchia tre volte alla porta della Camera prima che i deputati si degnino di aprire e di farlo entrare voi capite perché io vorrei Caprarica tutti i giorni almeno 10 minuti al giorno Caprarica per finire in un telegramma mi deve dire a proposito della regina come starà vivendo queste ore la regina con l'abituale tranquillità perché lei è imperturbabile ma la regina è troppo e cazzo con il regno quindi nulla cambia molto bene grazie ad Antonio Caprarica grazie a tutti gli ottimi andiamo in pubblicità ci troviamo tra pochissimo e facciamo il punto su tutto quel lavoro che c'è tutte quelle offerte di lavoro che arriveranno mi spiace non ci sia la macina dopo pubblicità grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri